cari amici di one minute shopping un'altra straordinaria offerta per voi solo per questa giornata attenzione il multiuso pen one pennone basta dimenticarsi la penna in giro con pen one pennone ogni problema è risolto ma pen one pennone non è solo una penna è anche un deodorante per le ascelle un cavatappi un contenitore per supposte una pompa bici un flauto e un termometro ma soprattutto pen one pennone è un comodo aggeggio per bucare i vostri palloncini non sempre funziona ma ora sì ma rivediamo l'azione di pen one pennone sul palloncino attenzione pen one pennone agisce e buca cosa c'è di più bello ma rivediamolo è talmente divertente che non si finisce mai eccolo qua pen one pennone e buca i vostri palloncini non sempre al primo colpo ma l'importante è che buchi pen one pennone il vostro aggeggio multiuso per voi in offerta lancio su one minute shopping a un prezzo speciale di 4 euro e 90 ma dove trovate un'offerta simile pen one pennone su one minute shopping 393 365 12 12 è sempre il nostro numero per chiamarci 365 giorni l'anno per 12 ore al giorno per 12 mesi l'anno pen one pennone basta con i problemi dei tempi moderni ciao ciao